Ciao a tutti da Poderak, bentornati su FS19 Emergency Oggi sono qui con la mia auto e mi sto dirigendo in ufficio Sarò un ufficiale della polizia Così rimaniamo in attesa in caso di eventuali interventi e cose da fare Questa è la mia jeep E questo è il nuovo ufficio della polizei, della polizia Vediamo qua dove posso parcheggiare Poi parcheggiano male i miei colleghi Ma parcheggio qua, va? Parcheggio qui Ok Prendiamo la freccia, perfetto Ah, guardate che ufficio, guardate che ufficio, bellissimo Con anche la polizia locale E questo è l'ufficio, dove ci sono tutte le varie news Dove ci sono anche i luoghi dove fare le riunioni Bello come ufficio, proprio bello Questo ufficio della polizia con relative celle E andando su Andando su abbiamo il centralino e anche quello principale Qui cobra 1 Unita 1, richiesta intervento per una situazione a ostaggi e barricati Un tentativo fallito di rapina in banca si è trasformato in un caso di ostaggi al Wainwright Mil Center Ok, sembra che ci sia una rapina al supermercato Andiamo a correre, prendiamo un'auto di servizio Andiamo con qualche collega, dai Prendo Ma si, prendo Da qui Scendiamo i lampeggianti Ci facciamo accompagnare da almeno un collega Dai, dalla provinciale, dalla polizia locale Dai, andiamo C'è una rapina in un supermercato Non dovrebbe essere tanto lontano da qui Speriamo che non ci sia gente armata Perché le rapine sono molto, molto, ma pericolose Ma tantissimo Quindi bisogna fare attenzione Io cerco di ricordarmi più o meno dove si trova Ora 1, ci stiamo avvicinando alla città Adesso siamo alla ricerca del supermercato Ci avviciniamo con le sirine spiegate Mantenere copertura Siamo tre pattuglie Nel caso dovessero essere necessarie delle altre pattuglie vi avviseremo Ok Dobbiamo fare attenzione Perché potrebbero essere armati Potrebbero essere armati e pericolosi Non lo sappiamo Magari sono solo delle persone disperate Che sapete in questo periodo È abbastanza Cioè, non è normale Però potrebbe capitare che qualcuno Impazzisca e faccia gesti folli Di questo genere Siamo arrivati comunque Questo dovrebbe essere il supermercato Qui cobra 1 Richiedo assolutamente di far uscire tutte le persone E di uscire con le mani in alto Vediamo cosa fanno Sembra che però non Non so se comunque sono venuti con qualche auto Lì vedo Qui agente Poderac Sembra che ci siano due Porsche davanti Ma non so se sono le loro Potrebbero essere anche queste auto qui davanti Attualmente non rispondono Qui agente Poderac Richiedo l'uscita di eventuali ostaggi E uscite con le mani in alto Non lo ripeterò una seconda volta Niente Oh! Oh! Stanno sparando! Che agente Poderac? Richiedo assolutamente un rinforzo Stanno sparando Stanno sparando Richiedo rinforzi Stanno sparando Prova a rispondere al fuoco Mi chiedo rinforzi Centrale crimine ad Adam Squadra e veicolo 1 Oggetto TAC 1 Qui unità 1 Unità 1 Il sergente Ed intervento della SWAT per codice 3 Al posto di comando della 127esima D'Adelaide e Seton Island I testimoni segnalano una sparatoria in corso A più sospetti armati Clare in corso Grazie a tutti. Sì, qui Cobra 1, sono arrivati i Nox. Mi avvicino verso di loro così prendo un M4. Prendetevi questo, infami! Cobra 1, sembra che rispondano al fuoco. Il loro obiettivo secondo me adesso è quello di fuggire. Dobbiamo prepararci a un eventuale contrattacco. Dobbiamo cercare di non far feriti. Ah, è davvero difficile adesso la situazione, ragazzi, perché questi qui sparano. Sparando la situazione diventa sicuramente molto più complicata di quanto doveva essere. Adesso abbiamo i blindati, quindi... Anche se ci sparano, abbiamo i giubbotti adesso. Dannazione. Non riesco a vedere niente, tra l'altro. Dobbiamo fare molta attenzione. Attenzione! Tutte le unità stanno sparando! Sembra che vogliono scappare! Io salgo sull'auto! Sembra che abbiano preso... Sembra che stiano partendo! I nostri colleghi lo stanno per inseguire! Non ho anch'io! Cobra 01, li stiamo inseguendo! Il problema è che stanno sparando! È molto pericoloso! Non stanno neanche troppo correndo! Vada, 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 collega, vada, vada, vada! Vada, vada! Il problema è che stanno sparando! Stanno sparando, stanno sparando! Dannazione, questi stanno sparando! Come possiamo prenderli senza... Vada, dannazione, cavoli! Collega, fai attenzione lì davanti! Dobbiamo riuscire a prenderli! Se vanno in autostrada siamo fregati! Dobbiamo provare uno speronamento o qualcosa! Sono due, il problema è quello! Sono armati! Dobbiamo provare a sparare alle gomme! Ah, cavoli, questo è un inseguimento mai visto prima! Stanno andando troppo veloci! Dai, collega, dobbiamo accelerare! Cosa vogliamo fare noi con la... Quelle sono delle Porsche! Vai con la BMW, dai! Attento, collega! Stai a rivestire una persona! O l'ha investita? Qui copre a 01, stanno andando in autostrada a sud 2, direzione Milano! Mi sto avvicinando, anche se non è facile! Dannazione! Dai, questo è il momento giusto! In salita! Dobbiamo provare a speronarlo! Richiede un posto di blocco più avanti! Eh, adesso sì che siamo fregati! L'autostrada è perfetta per loro! Tutelarità, tutelarità! Siamo in autostrada a sud 2, direzione Milano! Richiede un intervento immediato! Prova a tagliargli la strada! Prova a tagliargli la strada! Prova a tagliargli la strada! Prova a tagliargli la strada!